Se state riscontrando problemi di lag su Arena Breakout Infinity c'è un modo per aumentare gli FPS come puoi vedere da 30-35 FPS fino a 99-101 FPS grazie alle impostazioni grafiche nel gioco e soprattutto anche ai settaggi di Nvidia e una pulizia di cache direttamente sul sistema per non avere un calo e poi un aumento di FPS quindi tipo 30-80-30-80 FPS quindi sale e scende. Quindi in questo caso andiamo direttamente sulla nostra pulizia disco per cancellare vari file che non ci servono e file immondizia per velocizzare un po' il sistema quindi cancella direttamente i file cache o file temporanei che hai direttamente sul disco dove tieni Arena Breakout Infinity. Ovviamente vado così a cancellare tutti questi file eliminazione file oppure file sopra dove c'è scritto pulizia file sistema per fare una pulizia completa del sistema operativo. Poi una volta eseguito il tutto andiamo direttamente in descrizione ti ho lasciato così il link che ti porterà sulla pagina di Nvidia quindi il pannello di controllo di Nvidia settaggi perfetti. Quindi la scheda grafica di Nvidia io ho una 1660 Super e un processore AMD Ryzen 5 3600 e 32 GB di RAM e quelli erano gli FPS che faccio su Arena Breakout. Quindi clicco qua sopra il pannello di controllo di Nvidia ovviamente avendo una scheda grafica del 2019 vado ancora bene con i giochi che stanno uscendo oggi però devo arrangiarmi con la grafica bassa media. Quindi impostazioni programma quindi andiamo su aggiungi andiamo direttamente su sfoglia volume quindi vai direttamente nel tuo disco vai su Arena Breakout Infinity vai nella cartella abinfinity binaries come 64 scendi fino a giù fino a trovare game loader. O metti game loader o metti o a game.exe quindi metti questo qua che pesa di più e fai apri. Ora ci facciamo consigliare così le impostazioni adatte da Nvidia e alcune invece le metto io quindi il dimensionamento immagine mettiamo disattivato perché la nitidezza non ci serve sul gioco quindi se vuoi migliorare la qualità e anche una scheda grafica puoi goderti il gioco con una qualità meravigliosa. Anti-alescorrezione gamma mettiamo disattivato quest'altro mettiamo disattivato quest'altro invece mettiamo controllato dall'applicazione scendiamo fino a giù fino a trovare il buffering triplo mettiamo disattivato anti-alesing trasparenza mettiamo disattivato. Questi due li possiamo saltare filtro anisotropico ovviamente lo troverai anche nel gioco quindi ti consiglio di mettere il 2x. Se metti direttamente disattivato non credo che vedrai un po' cioè non vedrai molto bene la grafica da lontano filtro struttura restringimento bordi filtro struttura mettiamo disattivato ottimizzazione trilineare metti disattivato. Qualità metti prestazioni elevate questo lo saltiamo questo lo saltiamo modalità base radenza metti ultra scendi fino a giù fino a trovare questi tre questi te li fai consigliare da nvidia. Tecnologia monitor questo è importante mettiamo compatibilità se il tuo monitor supporta la compatibilità G-Sync è l'ultima invece la più elevata disponibile e facciamo più volte applica. Una volta fatto chiudiamo un attimo qua e questi erano i primi settaggi di nvidia. Ora andiamo direttamente su nvidia app sempre in descrizione ovviamente faccio sempre tutorial sulla scheda grafica nvidia perché io ho solo una scheda grafica nvidia quindi questo posso fare. Ora andiamo su grafica. Se non trovi il tuo gioco qua puoi direttamente andare sui tre puntini aggiungi programma. Vado in questo pc vado nel mio disco dove tengo il gioco. Faccio binarys 64 e vado a prendere il gioco questo qua. Ovviamente non mi escono le impostazioni come queste qua. Quindi se per esempio a te escono impostazioni come queste qua, questo pallino qua mettilo su prestazioni e fai ottimizza. Ora non ci resta che entrare direttamente nel gioco. Andiamo direttamente su immagine. Metto così 1080 modalità schermo intero senza bordi. Questa invece metto su low. Distanza visiva metto medio. Texture metto medio. Tutte queste cose delle ombre. Luce, effetti. Metto tutto bassissimo. Risoluzione metto medio e basta. Una volta fatto faccio salva. V-Sync non blocchiamo gli FPS. FPS massimi 240 e basta. Quindi come puoi vedere gli FPS un po' sono aumentati riducendo un po' la grafica su Arena Breakout Infinity. Quindi se hai avuto altri problemi su questo gioco scrivi sotto al video. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao. 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 Grazie a tutti